Grazie Ha iniziato adesso a lavorare, è incredibile Che uno guarda i video e dice ma questo lavora seriamente Sei svegliato 5 minuti fa? E sono andato anche a bere cappuccino ebrioso Ecco bravo Se inizia a piove è altro che Ciao Ma io ieri non ho neanche visto Oh non ho neanche visto ieri Ho fatto il corto Eh? Ho fatto il corto Ho fatto il corto Oh siete arrivati voi È arrivata l'acqua Adesso C'è quello che voglio dire Fatevi delle domande Stare a Cassano Magnago no No Era meglio un po' la testa Era meglio un po' la testa Ciao Ciao bello Ciao Buona gara Ciao Ciao Buongiorno Ricordiamoci che Diciamo che comunque Vi salute I ragazzi Tutti i saluti Un grande applauso Un grande applauso Un grande applauso Un grande applauso per questo applauso oggi Un po' a posto A tanto Ok grazie Ragazzi ci siamo Siete pronti? Siete pronti?